Eccoci qui, eccoci qui, nel mondo convento, nel mondo del sabato notte di The Red Days. Un urlo per la sposa! Oh, brave cariche, le nostre amiciciole, che vengono dalla provincia di Parma. Tutte quelle di Reggio Miglia le chiamo amiciciole, che è un bel nome. Dalla provincia di Parma, adesso vi faccio dire dalla sposa, prima il suo nome, vicino al microfono. Elisa. Ciao Elisa. Ciao. Vedi che a me mi sorride. Bravo. Elisa. Oh, bravo. Un applauso, come fuori dalla chiesa. Elisa, da dove vieni? Da Busseto, Parma. Ok, Parma. Con chi ti sposi? Con Matteo. Con Matteo. Subito, un pregio e un difetto di Matteo. Eh va, non me l'avevi detto questo. Eh va. È molto simpatico. È come fare l'amore. È molto simpatico, ma russa. È un difetto. Perché direi di sì. Esatto. Fa trent'anni, metto qua cinquanta euro, tiro uno dei due dormi sul divano. È già così. Ah, è già adesso così. Ok, perfetto. La pazienza è già finita da parte di Elisa. Allora, Elisa, cosa fai di bello nella vita? Eh, insegno. Insegni. Sei una teacker? Yes. Teacher. Una teacher di cosa? English. Inglese? Veramente? No, della scuola primaria. Ok. Cosa insegni? Tutto. 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 Sei internazionale? International. Tutto. Polivalente, che bel termine. Polivalente. Ok. Quando non sei con i bambini, con le bambine, cosa ti piace fare? hobby, passioni? Stare con i bambini. Eh, leggo. Ti piace leggere? Oh, ok. Genere? Letture? Di che tipo? Tutto. Tutto? Sì. Ok. Che canzoni cantiamo insieme alle tue amiche di Busseto? Eh, Sei un mito di Max Benzai. Ok. Grazie per avermi fatto un complimento. Vai! Iniziamo! Le mani a tempo! Sulle mani, vai! Eh! Sulle mani più forte, vai! Eh! A tempo, tempo! Sapete cos'è il tempo? Cappetti di nuovi, orve e magi. L'odorante appena preso che fa molto sci. Appunta dentro alle nove e mezza, ma io, per non fare il sol di forzo che è nato da Dio. alle nove e mezza, ma io, per non fare il sol di forzo che è nato da Dio. Se è un mito, sei un mito, per me, per me, per me. Anni che ci vedo così raggiungibile Vai! Conferto! Sei un pico Su le mani! Sei un pico per te Conferto di noi sei la più bella mai possibile Ora adesso non capisco perché Hai accettato il mio invito ad uscire con me Forse è perché tu non sei un prezzo robot Che noi tutti pensavamo sui posti però L'importante è che adesso siamo tutti insieme Auguri Elisa! Appoggiavi al tavolino di un pass Ma proprio se tu potessi invadica Se non lo sai che tu c'è la tua città Se in piedi Ma che ha visto in giro solo mio altro potere Continuiamo un altro potere così Ma che ha visto in giro solo mio altro potere Sono anni che ci vedo così raggiungibile Sei un pico Sei un pico Perché Non è più di noi Che non è più di noi Che non è più bella Non è così Ma che ha visto in giro solo mio altro potere Quale è il tuo tuo giorno mi dici dai Vieni tu da me che tanto l'ho visto che mi hai Io mi prendo per te Sei una bambina per te Voglio pensare che sto figata con te Anche se il tuo te lo vuoi in Italia Che è vero Io ti sposerei Solo con la voglia di fare bene da noi Anche se il tuo te lo vuoi in Italia La bozza palma Sei un pico Sulle mani si salda vai Sei un pico Per il tuo te lo vuoi in Italia Non è più di noi Non è più di noi Non è più di noi Vai vai dai Corina forse Bustendo per Elisa Vai Sei un pico Più forte Parmigiane Sei un pico Perché Non provi E non è più di noi Non è più di noi Sei un pico 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 Più forte Sei un pico Sei un pico Per me Non prometti Sei un pico Sei un pico Sei un pico Sei un pico Per me Per me Perché si sentiva che sono le più intonate rispetto alle altre. Io le farei cantare in chiesa perché sono veramente brave. Si sentiva proprio che in mezzo di cantare sempre l'Ave Maria, quando devi fare la scampia di canelli, l'Alleluia. Ok, deciso. Dai, a parte le battute, io e Lisa ti faccio i miei auguri personali di tutto lo staff del convento, per il tuo amore, per il tuo matrimonio con Matteo. Spero che sia stata una bella scelta. Il nostro locale, il nostro ristorante, perfetto. Si dicevi di no, ti facciamo uscire, bravo, è già qui dove funziona. Un applauso forte e caliente! Più forte è lei, la teacher Elisa! Grazie a tutti!